le video call o video lezioni hanno l'obiettivo di comunicare agli spettatori un messaggio questo è semplice capirlo per una video lezione ovviamente dove sai già che stai impartendo una vera e propria formazione ai tuoi spettatori ma forse potresti non cogliere tale messaggio nella video call voglio quindi spiegarti quale messaggio devi far passare ai tuoi spettatori durante una video call che tu sia in una call lavorativa con i tuoi colleghi o in una video chiamata per un colloquio di lavoro il tuo o i tuoi interlocutori devono percepire da parte tua sicurezza tranquillità e professionalità non esiste messaggio peggiore di una video chiamata disturbata con perdite di tempo dovute alla tua apparecchiatura e all'insicurezza di stare davanti alla telecamera l'obiettivo di questo corso sarà proprio quello di darti tutti gli strumenti che ti permetteranno di presentarti nel migliore dei modi durante una video call o una video lezione minori saranno i problemi che dovrai affrontare maggiore sarà la qualità della tua chiamata la tua video chiamata si distinguerà da quella degli altri che saranno collegati con audio pessimi luci assurde e faccioni enormi appiccicate alla telecamera ricorda quindi che alla fine di questo corso non avrai più scuse la tua comunicazione in video dovrà essere sempre la migliore per questa introduzione tutto e ci vediamo nella prossima lezione